In compagnia di Simone Inzaghi, buonasera mister. Ieri in conferenza stampa lei ha parlato dell'importanza di partire bene, ha parlato anche della motivazione. I ragazzi stasera non l'hanno delusa. No, sono stati bravissimi, abbiamo approcciato la partita nel migliore di modi, subito aggressivi, come ci eravamo detti in questi ultimi giorni. Sono stati bravissimi, abbiamo vinto una partita importantissima perché volevamo partire col piede giusto, adesso dobbiamo guardare avanti. Già da domani cominceremo già a pensare alla partita di venerdì. Mister, quanto è stato bello ritrovare il pubblico, il calore di San Siro? Un'emozione grandissima, già arrivare allo stadio con tutti i tifosi che saltavano festanti, è stata un'emozione incredibile. Negli ultimi anni e mezzo non era stato bello giocare in stadi vuoti, poi insomma qui a San Siro dentro è stato bellissimo, è stata una bellissima accoglienza sia per me che per la squadra. La terza domanda da studio, riporto io per il mister, sarà da Massimo Paganin. Sì, ovviamente salutami Simone e ringrazio, cioè ovviamente dagli il mio benvenuto all'Inter, logicamente. Volevo chiederti qualche cosa perché chiaro che lui ha trovato una squadra che già lo scorso anno giocava con il 3-5-2, però già questa sera ho visto che ha aggiunto qualche cosa. Volevo semplicemente chiedergli poi se la posizione di Ciananoglu, visto che l'ha spostato dietro la prima punta, è un'idea oppure semplicemente perché voleva far ruotare i centrocampisti che lo ha spostato in quella posizione. Ma io penso che all'occorrenza lo possa fare come l'ha fatto Sensi, si alternavano, sono due giocatori di grandissima qualità che ci alzano. Il tasso tecnico della squadra ha fatto benissimo Sensi, ha fatto benissimo Ciananoglu. Devono continuare così sapendo che stiamo aspettando anche rientro di nostri attaccanti importanti, quindi siamo molti soddisfatti, guardiamo avanti e ci godiamo questo esordio. Grazie mille mister, complimenti ancora. Grazie a voi, buonasera.